Prova a pensare a una specie in via di estinzione. Molto probabilmente hai pensato al panda gigante, al rinoceronte, alla balena o al gorilla. E non è un caso, perché questi animali sono una sorta di testimonial del conservazionismo, un movimento che vuole proteggere le specie in pericolo e sensibilizzare la popolazione sull'impatto umano sull'ambiente. Il panda e il rinoceronte non sono le uniche specie in pericolo. Questi animali sono però detti specie bandiera, perché sono protagonisti di campagne mediatiche che permettono di veicolare più facilmente il messaggio. Si tratta spesso di mammiferi di grandi dimensioni e per questo motivo vengono anche chiamati megafauna carismatica. Tuttavia sappiamo bene che gli ecosistemi sono costituiti da un intricato network di tantissime specie diverse, non solo animali, ma anche e soprattutto vegetali e microbiche. Per questo motivo le specie cosiddette ombrello hanno bisogno di un ampio habitat per vivere e grazie al loro peso permettono a cascata la tutela di moltissime altre specie. Se l'impatto umano è un effetto domino a catena, con questi interventi possiamo invertire il fenomeno.